Dobbiamo ricominciare a vincere le guerre, ha dichiarato Trump, che alzerà la spesa pubblica per la difesa. 54 miliardi di dollari in più all'anno. Arriveranno tagliando sulle spese del Dipartimento di Stato e per l'ambiente. Il tutto per un budget federale di 4 trilioni di dollari. Il Presidente affronterà stasera il Congresso con queste cifre e con lo slogan di una politica di pace attraverso la forza, per affrontare la minaccia crescente della Cina, una Russia in rinascita e di terrorismo. Richiederà denari per ulteriori 60 mila soldati e 12 mila marines, altri mezzi corazzati ed almeno altri 100 caccia bombardieri. Infine la flotta passerà dalle attuali 274 unità navali a 350, con un costo di 500 miliardi e per cui si dovrà alzare il limite di spesa fissato dal Congresso nel 2011. Allo stesso tempo Trump annuncia che taglierà le tasse e ridurrà lo Stato sociale. Persino nel suo partito c'è chi teme un forte aumento del deficit. Ma i neoconi invece vorrebbero di più. È solo il 3% di più di quanto stanziato da Obama per il 2018, lamenta il senatore McCain, il che lascia il nostro esercito non finanziato adeguatamente ed impreparato per affrontare le minacce alla sicurezza nazionale. Il delirio americano cresce. Secondo fonti della Reuters, l'Arabia Saudita vorrebbe riportare il prezzo del petrolio a 60 dollari al barile. Gli studi della stessa OPEC, peraltro, spiegano che questo risultato potrebbe essere a portata di mano grazie a fattori economici e a fattori di politica internazionale. Da un lato, nel 2017, la domanda di barile di petrolio dovrebbe salire a 1,2 milioni di barili al giorno, a fronte di un milione medio di barili che si è avuto mediamente negli ultimi dieci anni. Dall'altro lato, i paesi produttori hanno tutto l'interesse ad un aumento del prezzo per impinguare le casse nazionali, esangui da questi anni di prezzi molto bassi. Non pare azzardato dire che anche la nuova amministrazione USA accoglierà molto favorevolmente l'iniziativa, visto che, a differenza dell'amministrazione Obama, è molto vicina agli interessi delle grandi major petrolifere americane. Se l'obiettivo sarà raggiunto, le grandi sconfitte dell'iniziativa saranno le aziende finanziarie occidentali, che vedranno aumentato il costo del denaro a causa della fisiologica fiammata inflattiva che ne conseguirà. In maniera particolare, questo riguarda l'Unione Europea, che potrebbe essere costretta ad interrompere il quantitative easing che tiene in vita molte banche, soprattutto nei paesi mediterranei. Elmetti Bianchi, un documentario di 40 minuti lanciato da Netflix e dedicato ad una presunta organizzazione umanitaria, ha ricevuto l'Oscar come miglior cortometraggio. Durante una cerimonia marchiata esplicitamente di propaganda, il regista Orlando von Eisendel ha inviato il pubblico a porre fine alla guerra civile, così come viene chiamata da tutto il mainstream, che dura da sei anni. Pandora TV ha pubblicato tempo fa un servizio in cui viene smascherato il vero volto della cosiddetta organizzazione umanitaria che ha sede ai fondi in Gran Bretagna, non in Siria, e di cui operatori in zona non appaiono molto umanitari. Il fondatore di Elmetti Bianchi, Iray Dal Saleh, nel ringraziare l'Academy, ha annunciato che la sua organizzazione avrebbe salvato 82.000 persone. Un calcolo che nessuno può verificare. Un Oscar che fa il paio con il premio Nobel per la pace, ha segnato in anticipo ad uno dei presidenti più guerra fondai della storia americana. La difesa di Daesh continua a collassare, in seguito alla conquista di Elbab da parte dei turchi, nella Siria settentrionale. Dopo aver ripulito dai terroristi un vasto territorio a ovest delle Eufrate, l'esercito siriano è venuto a contatto con le truppe kurde, in avanzata da nord-est, di fatto ponendo fine ai piani di Ankara di lanciare un'offensiva su Raqqa. Ora, per raggiungere la capitale di Daesh, i turchi dovrebbero attraversare i territori controllati da Damasco o dai kurdi. Tuttavia, Ankara non esclude l'eventualità di uno scontro con i kurdi. Venerdì 27 febbraio, infatti, il consigliere del presidente Erdogan, il Nurcevic, ha dichiarato che l'intervento turco in Siria si fermerà soltanto dopo la presa di Manbij, attualmente sotto il controllo dei kurdi siriani. Nel frattempo, l'Occidente ha risollevato la questione delle sanzioni a Damasco per l'uso di armi chimiche. La bozza di risoluzione proposta da Francia e Regno Unito verrà discussa martedì 28 febbraio dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. Intanto, Mosca ha preannunciato l'uso del veto per bloccare il provvedimento. Domenica 26 febbraio, cinque agenti di polizia sono rimasti feriti nell'esplosione di un ordigno in un villaggio a sud di Manama. Secondo quanto riferito dal Ministero dell'Interno, le condizioni dei poliziotti sono stabili. Tutto regnoti gli autori dell'attentato. Ma i mass media regionali sembrano legare l'evento al conflitto interno tra autorità sunnite e popolazione a maggioranza sciita. L'inasprimento dell'ostilità tra le parti risale all'inizio dell'anno, dopo l'esecuzione di tre sciiti accusati di aver condotto un attentato contro le forze dell'ordine nel 2014. I tre giustiziati erano vicini ad Al-Wefak, principale partito d'opposizione sciita, bandito dalle autorità sunnite nel luglio 2016. Il 18 gennaio scorso, il leader sciita al Sanadì aveva quindi annunciato l'inizio della lotta armata nel paese. Le repubbliche popolari del Donbass si dicono pronte a nazionalizzare tutta l'industria. Lunedì 27 febbraio, i leader di Daniecki di Lugansk, Aleksandr Zacharchenko e Igor Platnitsky, hanno esortato Kiev a interrompere il blocco commerciale del Donbass entro il primo marzo. In caso contrario, le due repubbliche bloccheranno le esportazioni di carbone verso l'Ucraina e introdurranno il controllo esterno nelle società di giurisdizione ucraina operanti nella regione. Di fatto, un altro passo verso l'indipendenza del Donbass dall'Ucraina. Da parte sua, Kiev ha messo in dubbio la capacità delle repubbliche di gestire autonomamente le imprese e ha definito l'ultimatum un tentativo di intimidazione. Secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Pyskov, l'incapacità o riluttanza di Kiev di interrompere il blocco commerciale del Donbass non fa che allontanare le parti in conflitto dall'attuazione degli accordi di Minsk.